Sì, 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 bello, tanto giù. Ah, grazie. Non ho fatto due. Grazie, grazie. Sì, sono una foto. Mario. Sì, sono testi con il frasso. Sì, serissimo. E no, guarda dall'altra parte. Il consiglio. Anche volevo dirvi che abbiamo due altri da noi che si chiama Europa, Build in Europa, che è dove si faranno tutti i consigli europei. E per il momento si fanno qua a livello 50. E dopo abbiamo... È necessario perché sapete che con 27 Stati membri si parlano tutti insieme e siamo freschi. Quindi il sistema impedisce a più di uno Stato membro di parlare alla lotta. Per cui è pratico. Il consigliatore di un concorso che si chiama Dimentiamo Cittadini Europei. E lui mi ha detto, ma perché diventiamo? Siamo già cittadini europei. Onestamente. Mi ha dato la sua reazione. Ma perché diventiamo cittadini europei? Lo so. Effettivamente siamo cittadini europei, ma forse tante volte non sappiamo di esserlo o di partecipare attivamente nel ruolo che a loro compete. Che può essere semplicemente quello di residenti, ma anche quello di studenti, di lavoratori, di consumatori. A tutti questi livelli abbiamo dei diritti e abbiamo dei doveri. Quindi, questo non ho scusato la piccola parentesi, ma rispetto alla partecipazione alle elezioni. Purtroppo il Parlamento Europeo spesso è così. Spesso i cittadini non capiscono a che serve a votare alla fine cosa fa questo Parlamento. che c'è un problema con la possibilità di impegnare soldi, anche dal punto di vista di vedere, finanziato solo per il 40% massimo dalle tesorerie e per il 60%. Ovvero, prima anche di questo concorso, io non me l'ho effettivamente mai informato sul funzionamento dell'Unione Europea, ma comunque a livello di vita comune, le informazioni che passano... little biti.. ... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.